Inaugurata questa mattina la nuova fermata Nepezzano Piano Daccio di Ferrovia Italia che permetterà il collegamento fra la zona periferica ed il centro di Teramo agevolando un facile spostamento per gli studenti della facoltà di medicina veterinaria ma anche per chi deve raggiungere lo stadio Bonolis e l'adiacente centro commerciale. È un'opera che ci abbiamo impiegato circa un anno e mezzo per realizzarla ed è stata diretta praticamente dal comune noi abbiamo collaborato dal punto di vista finanziario e per quanto riguarda gli aspetti dell'esercizio ferroviario. C'è un piano di sviluppo di tutto il servizio ferroviario nella regione Abruzzo e voglio ricordare che abbiamo già avviato quella che chiamiamo la cura del ferro cioè creare tutta una serie di infrastrutture subito esigibili come quella che stiamo oggi aprendo all'esercizio commerciale per poter dare risposte immediate per il quanto riguarda il trasporto ferroviario. Con l'apertura della stazione di Piano Daccio garantiamo con 20 collegamenti quotidiani la possibilità a 2.500 passeggeri di avere un nuovo anello sul tema della rete di tipo regionale. È una tratta nella quale Trinitalia crede a dimostrazione nell'investimento che se ne sta facendo. È un progetto costato circa un milione di euro con finanziamenti ministeriali RFI e fondi PISU che noi abbiamo deciso di spendere qui perché era un obiettivo importante. Convocherò un tavolo a Teramo al quale parteciperà ovviamente il comune, la provincia, la regione, le RFI anche tua perché ti può portare avanti un progetto importante che trasformi questa tratta in metropolitana superficie e che eviti tante sovrapposizioni di trasporto che c'è tra ferro e gomma anche perché è previsto un taglio sul trasporto da parte della regione e questo ci potrebbe permettere di ottimizzare anche come dire di ridurre i disagi di questi tagli.